Tra selva di Progno e Bolca, in una zona splendida dell'Alessinia, per parlare di filiere, quella del latte, del formaggio e dei prodotti tipici di questa zona, ma vediamo anche il sommario negli altri servizi che la puntata numero 30 di Salute vi propone. Estate, come meglio affrontarla all'insegna dello star bene, le disuguaglianze in sanità sono un tema quanto mai di attualità. Cuore all'Orlandi di Bussolengo è stato applicato il primo defibrillatore, nati per leggere un progetto che coinvolge un mondo, per le pagine di Salute, i consigli per la lettura d'estate e infine a tavola e che tavola tra i tanti prodotti dell'Alessinia.